Vienna Ensemble Pro è diventata la soluzione di rete multipiattaforma definitiva negli studi e aziende di produzione di tutto il mondo. Questa applicazione di mixaggio e hosting consente di configurare una rete di computer multipli sia con Mac che con PCV Windows, senza la necessità di ulteriori interfacce MIDI e audio. Tutto ciò che serve è un semplice cavo Ethernet. Anche quando si utilizza un solo computer, Vienna Ensemble Pro migliora notevolmente il tuo flusso di lavoro, con funzioni uniche come Preserve che mantiene tutti i tuoi plug-in e i campioni caricati durante il passaggio da un progetto all'altro, un enorme risparmio di tempo. In Vienna Ensemble Pro puoi caricare Vienna Instruments, Vienna Instruments Pro, Vienna Synchron Player, Vienna Synchron Piano e tutti i plug-in di terze parti VST e Audio Unit. Puoi mixare sia in stereo che in surround fino a 7.1 con una completa automazione dei parametri. Puoi leggere i nomi dettagliati e chiari di tutti i parametri automatizzabili disponibili in Vienna Ensemble Pro e di tutti i plug-in inseriti. Un utile strumento è Learn. Cliccando su L, Vienna Ensemble Pro è in attesa di cosa vuoi mappare con il controllo in automazione. Offre anche l'integrazione opzionale con Vienna Mir Pro con un solo clic. Inoltre con il sample pack Epic Orchestra 2.0 incluso puoi ottenere un potente strumento di produzione tutto in uno per iniziare subito a lavorare. In tutte le mie produzioni musicali, Vienna Ensemble Pro è parte integrante della mia DOO. Puoi scegliere di utilizzare un'istanza sola o più istanze in base a come ti fa più comodo organizzare i tuoi strumenti virtuali. Per ogni istanza hai a disposizione 48 porte MIDI con 16 canali MIDI per un totale di 768 canali MIDI. Puoi impostare quante porte MIDI e canali audio vuoi nelle preferenze. In Vienna Ensemble Pro 7 sono stati integrati una selezione di otto potenti plug-in basati su Vienna Suite Pro con un'interfaccia grafica integrati nel channel strip del mixer. Una volta che hai configurato il tuo progetto puoi decidere di disattivare l'intera istanza oppure la cartella che contiene i channel strip o anche i singoli channel strip degli strumenti. Questo ti permette di caricare l'intero progetto o le singole istanze molto rapidamente. Puoi anche automatizzare la disattivazione e l'attivazione. Collegare il Vienna Ensemble Pro Server alla tua Dove è molto semplice. Basta aprire il plug-in Vienna Ensemble Pro e collegarlo all'istanza che hai precedentemente preparato. Così per ogni altra eventuale istanza. D'ora in poi, ogni volta che salvi il progetto, la tua Dove salverà anche tutta la configurazione di Vienna Ensemble Pro. Così potrai velocizzare il caricamento di tutti i virtual instruments con solo il caricamento del progetto nella tua Dove. Se nei progetti con molti strumenti virtuali l'autosaver rallenta il tuo flusso di lavoro, allora puoi disaccoppiare il salvataggio di Vienna Ensemble Pro cliccando su queste icone. Quella più a sinistra disattiva il salvataggio della sola istanza collegata, mentre se clicchi l'icona a destra scollega il salvataggio di tutte le istanze collegate. Naturalmente, quando finisci il lavoro, prima di chiudere la Dove puoi riattivare l'accoppiamento, in modo da salvare insieme al progetto tutta la configurazione di Vienna Ensemble Pro. Naturalmente in Vienna Ensemble Pro puoi salvare l'intero progetto e le singole istanze. Ogni Channel Strip può essere salvato cliccandoci sopra col tasto destro, in modo che puoi recuperare il Channel Strip con il suo Virtual Instruments in qualsiasi altro progetto. I plugin e Virtual Instruments che utilizzi di più puoi inserirli tra i preferiti entrando nelle preferenze. Questo ti permette di trovarli più rapidamente quando li inserirai in Vienna Ensemble Pro. Con le librerie WSL nel Channel Strip viene utilizzata l'articolazione in uso. Così puoi verificare in tempo reale se per un'articolazione in particolare hai utilizzato un volume troppo alto o troppo basso. Puoi creare una cartella per raggruppare i Channel Strip come ritini più comodo, o con il tasto destro del mouse, oppure cliccando sull'icona qui sotto. Con il tasto destro sul Channel Strip hai diverse opzioni. Cambiare il colore, rinominare, disabilitarlo, copiare le impostazioni del canale, salvarlo e caricare un Channel Strip con il Virtual Instrument in esso caricato con tutte le sue articolazioni, duplicare il canale o cancellarlo. Con Insert Input dalla tua Dove puoi mandare i segnali delle tracce audio in Vien Ensemble Pro e mixare qui. Alcune di queste voci sono visibili anche cliccando il tasto destro del mouse sotto o sopra i Channel Strip. Puoi mandare il segnale ad un bus e creare dei gruppi decidendo cosa controllare contemporaneamente. Puoi utilizzare il bilanciamento o i Power Pan per posizionare il Virtual Instrument. Le mandate e inserire i plugin effetti. Disabilitare il player e cambiarlo. Nella Taskbar hai diverse icone che ti aiutano a capire quale funzioni puoi rapidamente utilizzare. Dalla disattivazione di tutto il progetto alla disattivazione dell'audio e puoi mandare in Play la tua Dove da Vien Ensemble Pro cliccando sul simbolo apposito oppure direttamente con la barra spaziatrice. Poi di seguito le icone corrispondono a Nuovo progetto, Apri progetto e Salva progetto. Con l'ingranaggio entri nelle preferenze. E di seguito ci sono tre icone dedicate a Vienna Instruments, Vienna Instruments Pro, Vienna Synchron Player, Vienna Synchron Piano. Con la prima icona, Learn, dopo che hai premuto la barra per mandare in Play il tuo brano, Vienna Ensemble Pro memorizzerà i campioni utilizzati di tutti i player Vienna. Così, finita l'esecuzione del tuo brano, cliccando sull'icona successiva, Optimize, vengono eliminati dalla RAM tutti i campioni non utilizzati di tutti i player. Se poi ti servisse ripristinare la situazione precedente e ricaricare tutti i campioni non utilizzati in RAM, allora ti basta cliccare su Reset. Intonazione agisce su tutti i Virtua Instruments Vienna. Con la A, apri la finestra all'assegnazione delle automazioni ai parametri e con l'icona Focus Vienna Ensemble Pro ti attiverà l'instrument su cui stai programmando automaticamente. Le icone Mir e MirX si attiveranno nel momento che avrai acquistato la licenza di MirPro o MirPro24. Una volta attivata, quando inserirai un player, verrà inserito direttamente in MirPro. L'icona MirX si attiverà solo se avrai acquistato almeno una delle sale che vedi in elenco. Questo diventa uno strumento molto utile perché ti posiziona in modo molto rapido i players Vienna, velocezzando il tuo flusso di lavoro. Infine, puoi disattivare le scorciatoie da tastiera, sganciare l'istanza dalla finestra per renderla indipendente e, come abbiamo visto all'inizio del video, il lucchetto ti permette di chiudere i progetti della tua Dove senza perdere l'istanza in Vienna Ensemble Pro, per passare da un progetto all'altro senza dover ricaricare l'istanza o le istanze aperte. In ultimo, l'icona successiva ti informa del disaccoppiamento del salvataggio da parte della Dove, come abbiamo visto prima. Puoi trovare queste e altre funzioni nei menu qui sopra. Una volta installato Vienna Ensemble Pro, troverai diversi eseguibili. Vienna Ensemble Pro Server è la versione che devi aprire per collegarlo alla tua Dove, ma se sei un musicista che suona dal vivo, allora aprendo Vienna Ensemble Pro si aprirà la versione Standalone e potrai così suonare i tuoi virtual instruments con una tastiera MIDI e controller a fiato direttamente in Vienna Ensemble Pro. Come ti dicevo all'inizio del video, lavoro sempre con Vienna Ensemble Pro perché ha velocizzato il mio flusso di lavoro per la sua stabilità e per velocizzare le operazioni della Dove. Vienna Ensemble Pro è parte integrante della mia Dove. Vienna Ensemble Pro viene venduto con una licenza e se lavori con più computer collegati in rete, allora ogni licenza successiva la potrai acquistare ad un prezzo inferiore. Puoi anche scaricare la versione demo senza bisogno di una chiavetta e-license. Per qualsiasi approfondimento vai sul sito www.wsl.co.at alla pagina dedicata a Vienna Ensemble Pro e se hai delle domande puoi scrivere al team WSL e ti risponderanno immediatamente. www.wsl.co.at www.wsl.co.at www.wsl.co.at